Nessuno meglio di te sa quello che vuole e perché. Un bene per te e per la tua famiglia, un buon affare, un investimento sicuro. Se avete un sogno da realizzare, il sogno di una casa, la Tomasi Case è quello che fa per voi. Giusto, veniteci pure a trovare, senza nessun impegno da parte vostra, sicuramente troverete la casa che fa per voi. E soprattutto c'è anche il prezzo, questo è molto importante. Se veniteci a trovare, perché di un affare sicuramente si tratterà, senza nessun impegno da parte vostra e senza nessuna fretta. Vi attendiamo, ciao!